Ma buon salve a tutti, oggi sono in un video challenge, ho deciso di fare questa sfida, ho preso spunto da un video youtube per fare questa sfida Allora giocheremo a un super mario, il primo super mario, però in versione portal, ho trovato questa versione di sto gioco e ho detto perchè non farci una challenge Però ad ogni partita persa guarderemo uno short meme e la vedo molto dura, non sarà un prova a non ridere per i short meme ma lo userò come penitenza ecco Prima di iniziare vi ricordo di lasciare un like, di iscriversi al canale se ancora non lo avete fatto perchè qui dobbiamo sfondare E poi se volete seguirmi nei social vi lascio il tag qui, mi raccomando seguitemi Bene iniziamo subito la challenge qua dai, che qua la vedo molto dura la situa, ok vai Che come vedete qui c'ho la pistola del portal che sembra un rampino ma ok, lo utilizzerò a mio modo Tipo il primo super mario, però l'unica cosa che lo differenzia è appunto questa cosa di avere la pistola del portal per creare dei portali ma serve a ben poco Però è un genio colui che l'ha creato sto gioco, vediamo se qui c'è qualcosa Ma il primo livello è abbastanza easy, lo faccio pure ad occhi chiusi il primo livello Va, l'ho già completato, perfetto, perfetto GG Pulito, pulito Dai che sto cavolo che facciamo la challenge, completo pure il gioco Ma Bucino, la vedo un po' difficile completare il gioco Ok, mi ricordavo che ci fosse qua il fiore, anche se col portal lo utilizzerò ben poco Eccolo, dammi tutte le monete che qua mi serve perché devo arrivare a 99 per avere la vita Ormai tutti i trucchetti di super mario li conosco bene Ok, devo creare un bel portal Ah, guarda che bel loop Questo è anche il bello di avere la pistola del portal Porco, due No, qua non devo perdere mo Utilizziamo questa pistola Ok Ok, ok C'è di qua la scorciatoia Ok, si mi ha fatto andare avanti di poco ma sono andato avanti Ok Anche qua molto attenti Vai che qua c'è la mia scorciatoia Mamma mia Io sono un pro in sto gioco Sono un pro E io mi ricordo ancora quando lo completai in una live Utilizzando ovviamente le scorciatoie Oddio C'è questo coso odioso Niente, ci tocca il primo meme da guardare Super Saiyan And this is what I call Super Saiyan Above the Super Saiyan Yeah Ma vaffa Ma dai Quanto è vecchio sto meme Però fa sempre ridere Ma cos'è Ma cos'è Dai E abbiamo iniziato da grande Vai andiamo, andiamo Anche se la vedo molto dura No Lufungo, lufungo Mamma mia che culo Mo' perdevo il fungo Ok 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 vediamo se qui c'è qualcosa Un cazzo Perfetto Perfetto Potevo anche non prenderlo Il mio obiettivo è ammazzare questo che c'è sopra Devo trovare un sistema per crearne un portale Porco Due Mi sono ammazzato da solo Ok Non sa fare Dieci più nove perché Ha vissuto in Vietnam In mezzo alle mucche Un genio Ora capiamo perché Sono tutti ignoranti In quel posto Lo dovevo fare dai Ho fatto la mia cazzata Mi sono auto ammazzato In poche parole Oh finalmente Non me lo mandi subito Le cose Scappo Così faccio più veloce Ok Attenzione adesso Porco due Eh E mo E mo mi frega Questo Mo mi frega Dammi il fungo Perfetto 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 Lo zio Perfetto Dai che qua Qua la completiamo Qua la completiamo Vabbè dai Tanto E' fatta E' fatta E' fatta Con sto cazzo Che ti guarderò i meme Ah pure i fuochi Forse perché l'ho completato Al primo colpo Colpo Oddio Sarà il quarto colpo Eh qua mo Qua mo i salti So particolari Ah ok C'era il fungo nascosto Lì Non sapevo Dai dai Che anche questa La completiamo easy Ok Ho trovato la mia scorciatoia Col cavolo che mi fregano Ora Col cavolo che mi fregano Più facile del previsto E' stato Ah andiamo pure al mondo 5 Vai Dai che Lo finiamo sto gioco Ok Sono molto concentrato Perché so che ce la posso fare Conosco I miei limiti Conosco la mia Ma non ho fatto in tempo A frenare Vabbè dai Concediamo Che cavolo ho visto Vabbè Bene Sono una chiavica in sto gioco Può sembrare strano Ma sono una chiavica Hoci qualcosa che ho visto A YouTube Questo è un reporter dottor Facendo un interviello In un volto Io volevo sapere C'era cosa che dice Quindi abbiamo una traduzione Non sapevo Ma è probabilmente Proprio Proprio Ok Ok No No, già immagino che fine fa Una genia Non ho mai visto una donna così intelligente Ma ci sarebbe stato il meme Woman Editor, fai tutto tu Ah no, sono io l'editor, che cacchio, mi chiedo le cose da solo Qua c'è la stella, perfetto, perfetto Eccolo No, mamma mia Ma tutto a me deve succedere Adoro, questi effetti li adoro Non so nemmeno io che cacchio sto trovando Una playlist casuale che ho preso su YouTube Di short meme Ok, ce la faremo questa volta Oh no, già E' vecchio, c'era un altro meme dedicato a sto bambino col kazoo E fu storia Andiamo avanti Ok, ho preso una vita in più Cioè, ho fatto in modo di non saltare per non prendere Vabbè Perché c'è due fette di padre Ramsey ogni tanto impazzisce Inizia a fare cose assurde Bah, è stato bello veloce Vai, facciamo gli ultimi tentativi, dai Tanto è una challenge, eh, niente di che Non è che dobbiamo completare il gioco Poi se guardate che io completi il gioco Lo facciamo in live Uh, uh Mamma mia che bello Ce l'avevo completato Potevo benissimo continuare No, sono crepato prima Cioè, l'avevo finito il livello Vabbè Eh, non so qual è più difficile mo Uh, bello sto salto Eh, mo c'è Questo pezzo di Grazie, eh Grazie Ma che cavolo ho visto, dai Ok che è il meme più vecchio di questa terra Ma fa effetto Eh, e mo qua Come l'ammazzo Aspetta, provo con il portale Ok Ho trovato un modo per sbarazzarmi Dei suoi martelli Bello Bello, 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 bello Come ho fatto non lo so L'ho mandato da qualche parte Ok, me ne sono sbarazzato Grazie Portal Mi hai aiutato un casino Ce ne sono due mo stavolta Mo troverò qualche modo di ammazzarlo Six and a half hours later Sti martelli Madonna Li odio Li odio Ma cos'è? Lo comprerò però sta roba Vabbè, continuo un altro po' Ma non credo di vederlo tutto Se va avanti di questo passo Va, proviamoci Ho fatto una cazzata Camadosca Volevo riuscirci Non ce l'ho fatta Moduna, non ce l'ho fatta Odio quei tizi col martello Posso dire che li odio Quei tizi col martello? Era l'ansia che mi ha creato Mi ha causato Questo fail enorme Che cavolo di cane è questo? Ma cos'è? È un cane con qualche problema Vabbè Che dire signori? Spero che questa challenge Vi sia piaciuta Ovviamente lasciate un like Iscrivetevi al canale E seguitemi su tutti i social Che trovate il tag E i link Sia in descrizione Che qui Vi lascio qua E niente Detto ciò Ci vediamo Alla prossima challenge Ciao